Ciao, sono Cialuva Sardo e ho 26 anni. Vengo dalla provincia di Napoli e attualmente lavoro, ho un negozio di abbigliamento, ho una boutique a Napoli. Quindi diciamo che la maggior parte della giornata la trascorro un po' su Facebook e quindi tramite Facebook sono riuscito a rintracciare dei lontani parenti in California. Quindi io spero in un futuro di poterli vedere, di incontrarli. Quindi caro Teogino, visto che tu ogni volta che avviene Cam, Richard, Sam, Luca, se tu passi un papà e sorella all'Hollywood là ti rubano per fare l'attore, quindi dammi più una mano agli amici, a tutti i tuoi parenti, non lo so lì se c'è qualche amico in più, a fammi votare su tecnolover.it per darmi la possibilità di venirti a trovare e poi forse chi lo sa, diventerò una tu. Boh. Così, scusa ma ho sbagliato, ho sbagliato il sito, si chiama teclover.it, ma vedo come la fa. Ciao.